Restano lontane le posizioni all'interno del governo alla vigilia del giorno che potrebbe segnare il destino dell'esecutivo. Domani pomeriggio al Senato il Premier Conte riferirà sul caso Russia. Subito dopo potrebbe intervenire, ma dai banchi della Lega, il suo vice Salvini. Un modo per marcare una distanza che si manifesta su tutti i temi in agenda. A cominciare dall'autonomia nel pomeriggio potrebbe esserci un nuovo vertice tecnico a Palazzo Chigi. Se qualcuno sta giocando a spaccare il governo o a spaccare l'Italia, questo non lo permetteremo a nessuno. Perché per noi è ben chiaro quello che dobbiamo fare nei prossimi mesi. Alla Camera invece continua il dibattito sul decreto sicurezza bis. In serata il governo potrebbe porre la questione di fiducia tra le misure anche quelle sull'immigrazione. Multesalate per le ONG che violano il divieto di accesso nelle acque territoriali fino all'arresto del capitano della nave. Ma anche sequestro immediato delle imbarcazioni che potranno essere vendute o distrutte. E sul tema immigrazione continua il botto e risposta tra Macron e Salvini. Per il presidente francese l'assenza del ministro dell'interno al vertice di ieri a Parigi è ingiustificata. Non prendiamo ordini dalla Francia. La replica di Salvini.